Salve a tutti ragazzi, io sono il divino Johnny dello staff di Noi Malati di Food. Prima di cominciare con la compravendita, vi ricordo che se volete acquistare crediti a basso prezzo, Vipcoins è il sito che fa per voi. Con il codice MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Ho cominciato acquistando Tevez ad un prezzo di 3100 e rivendendolo a 3600, facendo un profitto di circa 300 crediti al giocatore. Poi ho continuato acquistando Fabregas, che si acquistava facilmente a 1400 anche al compravora. Lui lo riusciva a vendere a 1800, facendo anche con lui un profitto di circa 300 crediti. Infine, l'ultimo giocatore era Oscar. Lui lo riuscivo ad acquistare a 1700 e rivendere a 2100, facendo un profitto di circa 300 crediti. Per questo video è tutto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Grazie a tutti!